Ciao a tutte ragazze, questo è un video spacchettamento di Ezo Plus, è un po' che non faccio questo tipo di video però oggi per un attimino di tempo Angelica sta facendo il senedino, è arrivato il patolino con un pacco e volevo condividerlo con voi di solito non lo faccio questo video perché con questo video è insieme a un'altra persona e quindi di solito il pacco arriverà a me dalle due o tre cosine mie, invece questo è una roba mia quindi è arrivata qui da me insomma, quindi ve lo faccio vedere allora vado in ordine con quello che trovo nel pacco, ho comprato questi stick, sono dei Royal, no, sono Rocco Bar Sticks 3x4 praticamente sono 3, quindi vedete questi sono 4 stick e quindi 3 confezioni da 4, 12 stick a lana tra 2,29 euro io calcolando che ne vedo ogni tanto, faccio un mesetto e sono a Reus, piacciono moltissimo ci sono disponibili in vari gusti e sono questi appunto a lana tra esso non mi ricordo, credo che ci siano al collo, a mani, domani mi piacciono le cose un pochino più selvatiche tra virgolette a non piacciono, hanno un'esperienza anche abbastanza lunga, se ne volete comprare un po' caldono il 30 gennaio 2018, quindi insomma durano anche un bel pochino questi comunque vi dicevo 2,29 euro, 12 stick, insomma non sono male poi ho preso anche i ceriti di micio, vita craft, cat stick, mini, sono 6 stick, pollo e fegato 1,79 euro in proporzione questi sono 6, 1,79 euro, quelli del cane 2,29 euro, costanti più questi comunque ne ho presi pochi, però il mio gatto non è che ne mangia tanto ne li do come prego ogni tanto, quando è un po' in crisi, poco li li do poi ho preso Royal Canine, Urinary Care, due confezioni, questa è una e questa è l'altra, ho voluto prendere anche questi crocantini perché a lui piacciono molto e anche per la cura appunto delle vie urinarie, perché ormai il mio vecchietto Rambo compie aprile 12 anni, quindi è un vecchiettone quindi voglio iniziare a prendervi dei crocantini un po' più buoni poi dice efficace, insomma praticamente ha dei benefici sulle vie urinarie in solo 10 giorni questa è una confezione a 400 grammi, dice che si fanno 7 giorni e dopo naturalmente dipende da quanto mangia qui dice per esempio che un catto sui 5 chili mangia 65 grammi al giorno poi dopo dipende, io mangio anche l'umido, quindi questa è una confezione da 400 grammi la qualità dovrebbe essere buona di Royal Canine vediamo un po', costano comunque 4 euro e 79 l'uno quindi due pacchi 9 euro e 58 poi ho preso al prezzo speciale gourmet gold misto, sono 48 scatolette queste sono 12, quindi ci sono 4 confezioni fatte così quindi in tutto 48, 12 per 4, sì 48 sono le scatolette della gourmet in mousse credo che siano in mousse, mi ricordo bene gusti vari infatti questo è il manzo rosa, poi dopo c'è quella azzurra che è di pesce quella, aspetta che le tiro a cuore ragazzi così ve le faccio vedere quella azzurra è di pesce comunque potete scegliere i gusti che vi piacciono poi c'è questo che è, non ricordo, perché scritto in tedesco, io tedesco non so una virgola comunque si sarà tachino, una roba del genere, comunque sempre carne e quest'altro è il pollo, questo non ricordo, giallo è il pollo quindi queste sono tutte mousse, perché lui mangia solo il mousse ho provato a prendere i dadini in salsa, tutte queste altre cose ma lui lega la salsa e non mangia la carne, la mousse è l'unica che gli piace questo costano 48 scatolette da 85 grammi, 19,99 euro quindi un prezzo buonissimo in tutto io ho speso 34,57 euro perché la spedizione gratuita è 35 euro io ho avuto la spedizione gratuita lo stesso perché in realtà avevo speso 35,64 euro mi sembra, ma mi hanno fatto lo sconto programma risparmio di 1,07 euro praticamente cosa succede? voi quando vi scrivete potete scegliere, comprate la prima volta se volete potete pagare una cifra che va, non so, tipo spendendo 3 euro subito, ho il 3% di sconto in tutti i miei ordini spendendo 5 euro il 10%, quando dico delle cifre a caso perché adesso non mi ricordo quant'era comunque mi hanno fatto 1 euro di sconto e lo sconto è praticamente il minimo ordinabile calcolato senza lo sconto quindi anche se il minimo ordinabile è 35 euro ma con lo sconto voi pagate 34 la spedizione che è dal 35 poi non la pagate quindi questo per secondo me è una cosa molto seria che non tutti fanno, credetemi e poi oltre a avere questo sconto questo indipendentemente se non dovete pagare niente diciamo si accumulano dei punti che ogni tanto scadono quindi bisogna prendere i regali e i regali sono senza contributo naturalmente io ho preso il tè per esempio l'ultima volta ho preso il telo quello che si aggancia ai sedili hai i ceggiolini della macchina dietro e copre tutto il baule sia in lunghezza che in larghezza mi sembra buono come qualità per trasportare il cane ma anche per trasportare altre cose non so, caricate una bicicletta non volete spostare d'altrezzi del lavoro insomma può essere utile un po' per tutto comunque potete scegliere dei regali oppure se non volete il regalo in sé comunque nei regali è compreso anche del cibo potete comprare delle scatolette, dei crocantini quindi se non volete prendere il regalo un teso in secco o meno un suo accessorio ecco diciamo così poi ho preso anche mi stavo dimenticando queste mia amor cat confet malt crema è una crema al malto sono praticamente delle creme vitimilizzate che io ogni tanto quando lo vedo un po' spettutino glielo do praticamente ricontiene carne sottoprodotti di origine animale e vegetale di cui il malto per esempio è delle fibre, latte, prodotti caseari contiene fibre, basso contenuto calorico senza zuccheri totalmente privo di coloranti e conservanti è una cremina speciale insomma che a lui piace molto all'interno mi sembra che ce ne siano vedete si apre così 6 3-3-6 sono queste bustine vedete è liquida quindi si può aprire spalmare e strizzare sopra i crocantini o la ciccia oppure darglielo direttamente in una ciotolina solo questo comunque sul sito poi trovate tutte le indicazioni e le spedazioni di che cosa sono tutti questi prodotti vi scrivo nel link che sono informazioni nel box di informazioni il link della Zoplus se vi interessa comunque vi uso plus.it il sito è molto semplice e questo è tutto ragazze è un brido molto veloce dove volevo farvi vedere solamente un po' insomma le cosine che potete trovare a prezzo molto competitivo su questo sito secondo me la cosa più dove si risparmia di più di tutte queste cose sono proprio le scatolette della gourmet perché si trovano offerte in cui si viene a pagare anche una scatoletta perché non sempre le offerte sono uguali magari trovate questo mese questo prezzo per il giorno prossimo un prezzo molto più basso io il prezzo più basso che ho trovato mi sembra di aver pagato 38 centesimi 38-39 centesimi queste scatolette calcolate che in cop o iper cop qui da noi ma soprattutto in cop costano molto le ho trovate fino a 67 centesimi io le pago la metà quindi insomma quasi la metà e quindi un bel risparmio e niente questo è tutto ragazzi al prossimo video ciao 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 ciao